Vi auguro la buonanotte con questo messaggio. Esplorare le tue opzioni. È ora di esaminare altre possibilità. È un buon momento per i cambiamenti. A volte pensiamo è così che vanno le cose e non vediamo altre opzioni. Estraendo questa carta il cielo ti chiede di riesaminare qualsiasi situazione che pensi che non possa essere cambiata. Per un attimo fai finta che una sirena magica ti abbia permesso di realizzare tre tuoi desideri. Puoi avere tutto quello che vuoi. Cosa chiedi? La verità è che quasi tutto ciò che vuoi è possibile e questa carta ti chiede di esplorare le tue opzioni. All'inizio potresti farlo mentalmente con l'aiuto di sogni diurni o notturni. In un secondo momento è importante trasformare queste possibilità in realtà suddividendole in piccoli obiettivi da realizzare oggi. Quando esplori nuove opportunità l'energia dell'universo comincia a fluire nella stessa direzione dei tuoi sogni. Qualsiasi passo tu faccia per quanto piccolo ti aiuterà a vedere opzioni che potresti non avere mai notato prima. Questo è il messaggio dalla buonanotte.